Resto a sud la misura di finanza agevolata promossa dal Ministero per la Coesione Territoriale, gestito da Invitalia, volta a sostegno delle start-up imprenditoriali nel mezzogiorno, che chiude il 2018 con oltre 20.000 domande di avvio impresa, apre il nuovo anno con nuovi incentivi. Con l'approvazione della legge di bilancio 2019, infatti, i contributi saranno estesi anche a chi non ha ancora compiuto i 46 anni. Le agevolazioni erano riservate sino allo scorso anno solo agli under 36. Un raggio di azione che inoltre comprenderà i liberi professionisti, categoria sinora esclusa. I requisiti sostanziali sono che nei 12 mesi che precedono la richiesta di agevolazione non dovranno essere titolari di partita IVA per un'attività analoga a quella proposta per il finanziamento e soprattutto dovranno mantenere la sede operativa nelle regioni del sud interessate. Ad esempio, possono presentare proposta gli ex dipendenti di uno studio che vorrebbero aprirne uno in proprio, oltre naturalmente agli aspiranti imprenditori e alle imprese individuali e società, incluse le società cooperative già costituite o ancora da costituire. Sono finanziabili le attività imprenditoriali relativi a produzioni di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, delle produzioni agroalimentari, della pesca, dell'acquacultura e le attività rivolte alla fornitura di servizi, compresi quelli del turismo. La misura punta a coprire il 100% delle spese ammissibili e prevede il 35% di contributo a fondo perduto dell'investimento complessivo. È un finanziamento bancario pari al 65% della spesa totale di inizio attività. La domanda si presenta esclusivamente online e verranno valutate a sportello, cioè in ordine cronologico di arrivo. Tutte le informazioni e le documentazioni sono disponibili su invitalia.it